Ben ritrovati, lettura del commento al Vangelo di Don Luigi Maria Epicocco di giovedì 2 maggio 2024, commento tratto dal sito nellaparola.it. Come il Padre ha mandato me, anche io ho mandato voi, rimanete nel mio amore. Rimanere nell'amore è forse il programma di tutta una vita, infatti credo ognuno di noi fa esperienza di come la vita divenga impossibile quando si è fuori dall'amore. Ogni volta che non ci sentiamo amati, tutto perde gusto, anche la cosa più bella, più scintillante, più ambita. È l'amore che dà colore e significato alla vita. Rimanere nell'amore è ciò che rende la vita degna e Gesù non si limita semplicemente a ricordarcelo, ma a offrirci il suo stesso amore come il luogo vero in cui rimanere. La domanda allora sorge spontanea. Come si fa a rimanere nel suo amore? Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Solo quando rimaniamo nei suoi comandamenti possiamo dire anche di amarlo. E questo non va frainteso con una condizione etico o moralistica. Osservare i comandamenti significa prendere sul serio ciò che il Signore ci dice e ci indica come bene. Quale amore può essere chiamato tale se la parola dell'amato non è mai presa sul serio? Se tu ami qualcuno, allora ciò che quel qualcuno dice per te conta, ha un peso, è decisivo. Se la parola di chi dici di amare non è decisiva, allora significa che non c'è amore. Oggi dovremmo domandarci quanto peso diamo alle parole di chi ci ama e a partire da ciò dobbiamo altresì chiederci quanto peso diamo alla parola del Vangelo. Leggere il Vangelo e provare a metterlo in pratica è la condizione vera dell'amore a Cristo. Ma molto spesso noi cristiani e cattolici soprattutto non sappiamo nemmeno come è fatto il Vangelo, tolto qualche scampolo o ascoltato di sfuggita in qualche liturgia. Sarebbe un buon proposito per oggi dare peso alla parola di Gesù e cercare di metterla in pratica. In questo sforzo si rimane con i piedi fermi nel suo amore. E da cosa ti accorgi che ciò è vero? Dalla gioia. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Buona giornata e che Dio vi benedica tutti. Grazie.